Ciao amici sportivi e ben ritrovati qui sul secondo canale è ufficiale, è ufficiale, finalmente dopo tanta diatriba adesso lo possiamo dire, la Fiorentina è diventata americana passaggio di mano, passaggio appunto del testimone da parte dei Della Valle che ormai raga non ce la facevano assolutamente più a gestire quella che è stata appunto una delle squadre rivelazione degli ultimi 15 anni è passata dalla Serie C, ricordiamo che Della Valle la presero che era fallita era diventata la Florenzia Viola, era stata acquistata dopo il crack di Cecchigori era stata rifondata, aveva poi riacquistato il nome Fiorentina così come anche il simbolo esattamente come ha fatto poi il Parma, ha fatto la diatriba C2, la C1 la saltò Serie B e poi Serie A diretta e poi oltre alla Serie A è sempre stata diciamo una squadra in questi anni grazie alla presidenza della Valle, è sempre stata una squadra che ha lottato per le zone europee quest'anno invece si è vista la difficoltà, in realtà già 3-4 anni che si vede la difficoltà della Fiorentina nel ritornare quella di una volta ricordiamo che la Fiorentina è sempre stata storicamente una delle sette sorelle quindi è sempre stata della parte sinistra della classifica vederla nella parte destra addirittura rischiando di retrocedere voleva veramente dire che i Della Valle non ce la facevano più e addirittura c'è la cessione della proprietà a un presidente americano un magnate americano che ha diciamo se non vado errato la Mediacom comunque ha un bel introito, adesso non ricordo bene il nome penso fosse media come nel caso, comunque scrivetemelo in un commento qui sotto se sto sbagliando è magari per qualche assonanza perché adesso ricordo questa marca ma vabbè comunque un presidente commisso che ha la disponibilità economica la grana ce l'ha e sono molto contento davvero per la Fiorentina ragazzi perché veramente vederla in quella parte della classifica mi faceva ribrezzo cioè non era giusto e finalmente diciamo oltre alle varie società come le big grosse come l'Inter, il Milan, il Pallotta e compagnia adesso anche la Fiorentina è diventata una squadra di proprietà straniera questo è da una parte una cosa positiva perché sappiamo che il mercato italiano è veramente ormai saturo dal punto di vista dei presidenti gli unici due sono praticamente Agnelli e De Laurentiis gli altri sono tutti presidenti che arrivano con l'acqua alla gola italiani mentre invece le presidenze appunto straniere riescono a portare un bel po' di capitali e quindi sono una cosa positiva per la Serie A negativa perché è un peccato non vedere presidenti italiani come una volta era romantico vedere i vari cecchigori i tanzi, gli agnelli, i berlusconi tutti insieme adesso sono praticamente tutti stranieri sono rimasti soltanto gli agnelli appunto e De Laurentiis oltre a vari lotito eccetera io sono contento davvero per la Fiorentina una piazza che se lo merita 170 milioni per l'acquisto non sono neanche tantissimi se ci pensate pensate che Chiesa lo potrebbero vendere tranquillamente a 100 milioni un Muriel a 30 e qualche altro giocatore diciamo che praticamente sono 4-5 giocatori della Fiorentina questi 170 milioni quindi tranquillamente Commisso può bastire diciamo un bellissimo progetto per ritornare grandi ora la Fiorentina non è più costretta a vendere i suoi pezzi pregiati e vedremo che cosa accadrà l'anno prossimo io sono convinto che Commisso farà molto molto bene e in 3-4 anni diciamo vedremo la Fiorentina addirittura in Champions League me lo sento ragazzi Commisso ce la farà spero almeno per i tifosi della Fiorentina perché se lo meritano davvero fatemi sapere in un convinto qui sotto secondo voi cosa ne pensate di questa acquisizione di Commisso secondo voi è una persona seria oppure è una di quelle persone che ultimamente abbiamo visto è soltanto, acquista soltanto diciamo per la pubblicità come magari è stato l'Isang per il Milan non credo eh, non credo però o magari sarà una specie di pallotta che cerca di spendere il meno possibile rivendendo, facendo un progetto in stile Atalanta rivendendo i giovani fatemi sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate ragazzi io torno a casa dopo una giornata di lavoro sono stremato grazie per aver visto questo video un saluto ciao Papyrus grazie a tutti